Allerta per condizioni meteo avverse. Da oggi fino a martedì mattina il Veneto sarà interessato da forte maltempo, con precipitazioni da abbondanti a molto abbondanti e possibili eventi estremi, specie nelle aree montane e pedemontane. La protezione civile regionale ha previsto allerta rossa ed è la prima volta nel 2018 per criticità idrogeologica sul bellunese, l'alto trevigiano ed il bacino idrografico del Piave. È prevista una pioggia abbastanza abbondante da questa sera a tardi, quindi nella giornata di domenica, con un picco presumibilmente nel pomeriggio di lunedì. A Belluno la prefettura ha convocato l'unità di crisi. Nel pomeriggio è stata decisa la chiusura lunedì di tutte le scuole della provincia. Allertata la protezione civile di sindaci consigliando alla popolazione di limitare gli spostamenti, evitando quelli non strettamente necessari e di non transitare o sostare in prossimità dei corsi d'acqua. Analoghe raccomandazioni a Vittorio Veneto dove il Comune ha attivato il nuovo sistema d'allerta con messaggi telefonici ai cittadini. Abbiamo già detto in sostanza che il centro funzionale decentrato della regione Veneto aveva diramato questo avviso di protezione civile con allarme rosso. Per cui abbiamo detto ai nostri concittadini di verificare puntualmente di ora in ora quale fosse devolversi della situazione e di valutare di muoversi solo se ovviamente necessario. E se a Belluno il prefetto ha chiesto ai sindaci di valutare il rinvio delle manifestazioni programmate per il weekend, a Vittorio Veneto si è deciso di confermare il raduno nazionale di Asso Arma iniziato stamane. È chiaro che qualora dovesse emergere una situazione molto grave faremo in modo di annullare seduta stante la manifestazione. Però per adesso non pare ci siano le condizioni così gravi per farlo. Ne ho parlato anche questa mattina col prefetto che era presente all'apertura del raduno di Asso Arma. La regione Veneto intanto ha attivato già ieri la sala operativa della protezione civile per monitorare l'evolversi della situazione in tempo reale.